Buongiorno. Se fossero tutti quanti gli attori della stampa presenti, considerando gli intermezzo, si possono delineare quelle che saranno le linee, posso solo dire che darò continuità al lavoro che è incredibilmente stato condotto da chi mi ha preceduto, bravissimo collega, stimatissimo collega, nonché amico. E' il modo anche per confrontarci, per stabilire subito una linea di contatto, una linea che desidero impostare, così come nelle recenti esperienze, su canali di reciproca lealtà, comprensione, che non dovrà venire meno, perché questi sono i presupposti per poter operare e favorire sicuramente quella sinergia necessaria per poter raggiungere in modo efficace gli obiettivi. Di volta in volta poi andremo insieme a valutare se sarà necessario il mio intervento, se sarà sufficiente quello del collega. Naturalmente andremo a calibrare anche questi contatti a secondo del contesto di riferimento. La guida delle istituzioni, la guida della magistratura, che ha indubbiamente questo ruolo importante per cercare di dare il nostro contributo nel migliorare, se sono vicendati diversi, quando c'è stato lei. Lei ha anche un svolto sullo contribuire alle giuste cause alle quali tutti noi miriamo. Miriam